Caffè 24, Radio Genius e Fiasp presentano Podismo Informato. Buonasera a tutti i telespettatori di Podismo Fiasp Informato. Siamo qua anche oggi con questo bellissimo appuntamento che vi ricorda le varie corse nel panorama del Padovano e della provincia. Vi ricordiamo che siamo anche in onda sempre con Caffè 24 sulla radio, quindi se avete occasione di ascoltarci mentre siete in auto, questo è un buon momento. Allora, com'è andata la settimana scorsa? Tutto bene? Avete corso? Avete approfittato per chi poteva dal ponte? Domenica è stata sicuramente una bellissima giornata in cui chi ha potuto fare qualche passeggiata, anche a Nicoli e i nostri, è stato sicuramente entusiasto. E in più, per chi doveva rimanere in città o aveva altri impegni, una domenica soleggiata veramente spettacolare. Per quanto riguarda gli appuntamenti della prossima settimana, allora iniziamo subito come consueto con gli allenamenti collettivi, gli allenamenti dei gruppi, che in questa stagione stanno andando tutti quanti particolarmente bene. Speriamo che il trend positivo rimanga anche per il periodo invernale, quando sicuramente i camminatori troveranno meno piacevole l'uscita, ma se il gruppo è bello compatto, la atmosfera è calda, quindi ci possiamo tranquillamente abbandonare a queste iniziative. Allora, martedì c'è il consueto appuntamento con il training di Piove di Sacco, la partenza è alle 8-5 e sotto il campanile di Piove di Sacco, quindi è agevole da trovare. I percorsi sono due, da 6 e da 9 chilometri. Il percorso è interamente illuminato, quindi non c'è problema di dover portare torce o quant'altro. Il gruppo che lo organizza è i Rain Runners. Ricordiamo, noi due percorsi 6 e 9 chilometri. Passiamo al mercoledì con l'appuntamento con Paleo Run, questa volta fa tappa a Selbazzano, con i consueti due percorsi, appunto 5 e 9 chilometri. La partenza è alle ore 8. Sempre mercoledì abbiamo a Montagnana Corriere Mura, organizzato da Corriere Mura di Montagnana. Partenza ore 20 e 20. I percorsi sono sempre due, un percorso più corto per il camminatore di 6 e più lungo per chi corre 10 chilometri. Rimendiamo sempre alla giornata di mercoledì, che è denso di appuntamenti per i podisti. a San Giorgio delle Pertiche, Corriere Cammino nel tuo comune. I percorsi sono 2, 5 e 10 chilometri. Questo appuntamento è organizzato dalla, ricordiamo, insomma, dalla associazione Foredil, che organizza l'evento. Mentre per quanto riguarda... Ah, dimenticavo, scusate, giovedì, giovedì ore 19 e 30, a Chioggia, in sottomarina, piazzale Europa, c'è la partenza dell'evento organizzato dai cavalli marini. I percorsi sono 5 e 10, ricordiamo, sono all'orario 19 e 30. Allora, per quanto riguarda l'appuntamento, diciamo, della fine settimana, della domenica, abbiamo un strepitoso appuntamento marcato dal gruppo Avis Aido, pondistico Bagnoli. Strepitoso perché? Perché oltre ad avere un bel giro, di poter godere appunto del panorama, interamente, il percorso è interamente strutturato lungo le vie, diciamo, non consuete, quindi anche un po' di vie di campagna, stelle bianche, e quindi ci trasporta un po' su quella che è la, tra virgolette, la bassa padovana, insomma, quindi paesaggi sicuramente non usuali per chi vive in città. È una manifestazione molto bella, interessante, anche e soprattutto per il ristoro finale, di cui gli organizzatori vanno particolarmente fieri, perché mettono in campo le forze della Proloco e di tutti i soci del gruppo e mettono a disposizione appunto per l'istoro finale delle patate americane fatte alla griglia, i gnocchi e altre cornie come i sugoli, quindi è sempre un evento per chi vi partecipa, è molto interessante dal punto di vista culinario, oltre che è una bella opportunità per fare qualche chilometro in compagnia. La partenza è dalle ore 8 alle 9, ricordiamo, metti in una mesima marcia del Vienfriulano, Friularo, e i percorsi sono 6, 12, 18, la partenza è in centro, vicino a una villa, e quindi vi aspettiamo insomma numerosi. Per quanto riguarda invece il percorso, gli altri appuntamenti del territorio fuori provincia, allora ci spostiamo a Vicenza con la 41esia marcia delle castagne. Qui i percorsi sono molti e soprattutto anche molto lunghi, quindi per chi vuole fare una bella scompagnata, una bella preparazione, abbiamo i 6, i 10, i 12, i 22 e i 42 chilometri, quindi mi dicono anche che i percorsi dei 22 e dei 42 sono completamente rinnovati, diversi, quindi avranno migliorato sicuramente il percorso e reso ancora più suggestiva questa marcia. La partenza è dalle ore 8 alle ore 9, località Castaniero, Vicenza, mentre sempre per quanto riguarda la zona del Vicentino abbiamo in località Longa di Schiavon, la manifestazione si chiama Longa da vedere, i percorsi sono 6, 12 e 20 chilometri, la partenza è sempre alle ore 8 e il gruppo che è il comitato, il gruppo che è l'organizzatore, è la Proloquo e l'amministrazione comunale. Ricordiamo appunto domenica 6 novembre, partenza alle ore 8, mentre per quanto riguarda il territorio veronese abbiamo FIASP Verona in collaborazione con i gruppi affiliati organizzando domenica 6 novembre alla scoperta del parco dell'Adige. Molto interessante questa manifestazione perché appunto vede la presenza di più gruppi che si danno una mano per promuovere un'attività o comunque un evento. La manifestazione è di tre percorsi, i 5, i 10 e i 15 chilometri, presso l'area Poggi, via 28 Marzo, Porto San Pancrazio. Allora, per quanto riguarda il nostro assegna delle marce, noi abbiamo terminato, vi aspettiamo con i nostri consueti appuntamenti e soprattutto vogliamo vedervi alle marce. Grazie e buona serata. Caffè24, Radio Genius e FIASP vi hanno presentato Podismo Informato.